Facciamo un test, piccolo coniglio, devo fare un piccolo test, non ti preoccupare, non ti succederà niente, no scherzo, ti devo mangiare, yam 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 yam, avete visto piccola Paki? E salite anche di livello, fantastico! Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Pixar, che guardate lì, c'è il piccolino, c'è il piccolino sulla mia testa, ci troviamo in questo gioco fantastico, il primo episodio vi è piaciuto veramente tantissimo, Qui c'è un bellissimo triceratopo a livello 49, guardate quanto è bello, oh, questo è un uovo di triceratopo, fantastico, aiuto, gli ho rubato l'uovo, non ci posso credere, scusa, non ci credo, non toccate mai l'uovo di un dinosauro, perché sennò vi uccide, non ci posso credere, non pensavo che fossero così cattivi, Se ti polierubi l'uovo, beh, giustamente l'uovo è come se fosse un figlio, quindi non dovete mai toccarlo, per fortuna che siamo respawnati dove eravamo morti, Bababia, questo gioco è veramente fantastico, grazie mille per il supporto, guardate qui c'è il topolone, c'è il topolone, non vedo l'ora oggi di farmi il topolone come amico, no, ha ucciso un piccolo coniglio, quel triceratopo, Ebbene, avete visto quello lì, è un triceratopo femmina, per questo ha difeso il proprio uovo, adesso cerchiamo di riprenderci tutto quello che avevamo perso, e adesso dobbiamo andarcene, Se vorreste vedere altri fantastici video di Pixar, raggiungiamo i 4000 mi piace, iscrivetevi al canale premendo il tasto osso, iscriviti, ditemi nei commenti se vi piace questo gioco, Guardate qua, questa è una quest, se accettiamo questa quest dovrebbe darci qualcosa, a quanto pare qui dobbiamo craftare un piccone di pietra per completare questa missione, Va bene, cercheremo di craftarci un bel piccone in pietra, per craftarcelo dobbiamo semplicemente prendere tanta pietra e poi poter ovviamente craftare il piccone, Per poter craftare il piccone, se non sbaglio, dobbiamo cercare di raggiungere il livello 10, sì, forse dobbiamo raggiungere il livello 10, sapete, eccolo qua, avete visto, Stone Peak che si sblocca a livello 10, noi stiamo a livello 9, però secondo me ci arriveremo fra poco, ormai stiamo quasi a livello 10, Ora ci prendiamo tanta finta, tanta pietra, tanta tanta legna, così ci prepariamo anche lo stretto necessario per farci una bella base, Oh, guardate questo piccolo dinosauro che è bello, è una femmina chiamata Paki, perfetto, cerchiamo di darle un po' di cibo, Mangia, mangia, perché questa qui adesso la facciamo diventare nostra amica, sì, sta a livello 21, quindi se non vedo l'ora di tamare questo piccolo dinosauro, Così possiamo farlo diventare nostro amico e possiamo spostarci nel mondo di gioco più velocemente, perché ci servirà spostarci da questa zona, Perché questa zona a me non mi piace così tanto, sì, qua abbiamo un bel castello da esplorare, qua abbiamo una specie di grande torre aliena, Dove lì sotto dovrebbe esserci una bella cesta segreta, che comunque non possiamo aprire perché questa è rossa, Quindi mi sa che dobbiamo avere un livello molto molto alto, quindi non vedo l'ora di spostarmi, di cercare un bel posto dove costruire una fantastica base, Diamole ancora un po' di cibo, manca pochissimo e finalmente potremo tamare questo fantastico dinosauro, Benissimo, abbiamo tamato questo piccolo dinosauro, come la chiamiamo? La chiamiamo piccola Paki, sì, la chiamiamo piccola Paki perché ovviamente è una femmina, Fantastico, adesso è diventata mia, sì, ciao, ovviamente è vero, non posso cavalcarti perché ho bisogno, sapete di cosa? Di una sella, E non posso craftarmela ancora alla sella, se non sbaglio, perché devo cercare di raggiungere il livello, eh, qua, eh, non l'ho ancora sbloccata, Ok, ok, c'ho tantissimi ingrammi, guardate, c'ho tantissimi ingrammi, che stupido, posso invece craftarla, fantastico, L'ho sbloccata con gli ingrammi, adesso possiamo craftarcela, perfetto, vediamo se possiamo craftarcela, controlliamo, sì, eccola qui, che bello, Ecco qua la sella e adesso guardate, possiamo andare su Paki, piccola Paki, ciao, vedete, ora possiamo tipo correre con il nostro piccolo dinosauro, Possiamo attaccare, mangiare tutti gli altri, guardate, facciamo un test, piccolo coniglio, devo fare un piccolo test, non ti preoccupare, non ti succederà niente, No scherzo, ti devo mangiare, niam 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 niam, avete visto, piccola Paki, è salita anche di livello, fantastico, Finalmente abbiamo raggiunto il livello 10, sì, con il livello 10 possiamo craftarci veramente tantissime cose, fantastico, E possiamo avere altri dinosauri come i nostri amici, allora, finalmente abbiamo sbloccato gli ingrammi del livello 10, E ci sblocchiamo subito lo stone pickaxe, così abbiamo il piccone in pietra, l'accetta in pietra, e abbiamo finito gli ingrammi, sì, non posso sbloccare nient'altro, Beh, posso sbloccare questa sedia, fantastico, oh, che bello, ci sono pure le lucciole, fantastico, comunque, guardate qua, Questa è l'accetta in pietra, e questo è il piccone in pietra, e cos'altro possiamo fare? Possiamo prendere un fiomia come nostro amico, E prenderemo un topolone, sì, ecco il topolone, fantastico, cominciamo a dargli tantissimo cibo, così ovviamente poi possiamo farlo diventare il nostro amico, Guardate, mangia come se fosse uno che non ha mai mangiato in vita sua, dai, piccolo, devi mangiare tantissimo, così diventi ancora più grosso, Beh, è già grosso, però lo diventa ancora di più, non ci posso credere, ha fatto una mega cacca il mio piccolo topolone, topolone, quanto stai mangiando? Questo topolone ha bisogno di tantissimo cibo per farlo diventare il nostro amico, perché si deve fidare, i dinosauri non si fidano subito di voi, Quindi dovete dargli tanto, tanto cibo, così si possono fidare di voi, ed ecco qui la nostra nuova fantastica famiglia, Abbiamo piccolo pacchi a livello 42, piccola pacchi a livello 18, e abbiamo lui, sì, topolone, topolone a livello 46, possiamo adesso anche salire sopra di lui, sì, Fantastico, e loro ovviamente mi possono seguire, perché posso farli rimanere fermi, se tipo premo U, ecco, tipo posso fischiare, e rimangono dove stanno, avete visto? Però se fischio di nuovo, guardate, mi seguono e arrivano, fantastico, non vedo l'ora di prendere il pterodactilo, Però per il pterodactilo devo aspettare il livello 20, perché sapete, la sua sella si sblocca a livello 20, fantastico, adesso possiamo andare da questo coso qui, e richiedere la quest, Anzi no, dobbiamo completare la quest che avevamo fatto, fantastico, e adesso possiamo prendere il premio, questo è il premio per aver completato una quest, e che cos'è? Uh, abbiamo trovato la Firestone Powder, che possiamo, con questa possiamo farci, penso, i proiettili e altre cose così, abbiamo trovato della chitina, Oh, della polvere di ossa, e dei privilegi, mamma mia, abbiamo trovato tantissime cose, tutte queste cose mi serviranno in futuro, Per fare quelle cose bellissime, con tipo le fornaci, o tipo le armi, i proiettili, non vedo l'ora, Ora dobbiamo semplicemente spostarci, dobbiamo stare attenti a dove andiamo, perché ci sono varie zone che sono pericolose, tipo guardate, ci sta la foresta oscura, ci stanno le lande di Doom, ci stanno le Frozen Land, Golden Realm, le foreste magiche, Tutti questi posti sono pericolosissimi, dobbiamo starci alla larga, perché sono posti pieni di mostri, di fantasmi e di cose così, quindi dobbiamo stare molto attenti a dove andiamo, E' successo una cosa bruttissima, sapete cosa è successo? Con tutta la mia famiglia ho deciso di andare fuori da questa conca, questa vallata fantastica, E una specie di lupo fantasma ha colpito la mia famiglia e l'ha uccisa tutta, non ci posso credere, quindi sono tutti morti, io sono morto e infatti sono ritornato a prendere il mio loot, Quindi non possiamo uscire da questa valle, a quanto pare questa valle è tipo l'unica valle buona che c'è, perché dopo da quella parte c'è il bordo, E da tutta questa parte siamo circondati da una valle oscura e da una valle innevata, quindi è impossibile, quindi mi sono detto l'unico modo è prendere un pterodactilo e uscire da questa vallata, E trovare un'altra vallata bella come questa pacifica e cercare di costruire una fantastica base, quindi dobbiamo per forza raggiungere il livello 20, Siamo qui nella zona innevata e ci troviamo vicino all'entrata del castello, quarta qua che bel castello che c'è da questa parte, e da quella parte c'è anche la torre con il tesoro, Allora in questa zona innevata sembra che non ci sia nessuna persona cattiva, nessun animale cattivo, nessun dinosauro, quindi facciamo una cosa, Proviamo ad andare ad esplorare questo fantastico castello innevato, sì questo castello ghiacciato lo voglio esplorare, chissà forse riusciamo a trovare Frozen, Mamma mia sarebbe bello, sì, ok vediamo un po' se possiamo entrare perché qua l'entrata sembra tutta ghiacciata, avete visto? Come cacchio facciamo ad entrare? Wow, cosa? Dobbiamo spaccare? Ah no, basta aprire, che figate si sono aperte le porte e c'è un triceratopo, aiuto, non ci posso credere, avete visto? Aiuto è uscito, è uscito, è uscito, non ci credo, guardate là, c'è un triceratopo che è uscito, abbiamo liberato un triceratopo cattivo, Mamma mia, eccolo, l'avete visto? No, non ci posso credere, il castello è pieno di dinosauri cattivi, quindi non possiamo neanche esplorarlo, Quindi dobbiamo aspettare di diventare più forti, aiuto, che sta succedendo? Ma che cosa? Ci sono i piragna, non ci posso credere, Ah, ah, mangiamo, 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 oh, mi ha detto ci sono dei piragna, mi sono buttato qui nel mare per farmi una bella doccia, E invece ho incontrato dei piragna, non ci posso credere, sono morto, com'è possibile farsi uccidere dai schifosi piragna? E guarda, ma c'è anche uno squalo, aiuto, ma c'è anche uno squalo, per fortuna che mi annunci i piragna, perché sennò sarai morto da uno squalo schifoso, Guardate, ve lo rifaccio vedere, avete visto? Un megalodonte a livello 43, oh mio dio, mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto, stiamo lontani, Eccolo, eccolo, sta arrivando, guardalo lì, è gigantesco quello squalo, oh, abbiamo incontrato anche un raptor, guarda qua, un raptor a livello 43, 43, non ci credo, sapete, i raptor, possiamo anche loro tipo addomesticarli, e quelli sono potenti, eccoli, sono arrivati di nuovo i piragna schifosi a vendicarsi, No, io mi devo vendicare, altro che loro mi devono mangiare vivo, guardateli quanti sono, fantastico, ho ucciso un paio di piragne, Perché ovviamente sto uccidendo un paio di dinosauri, sto esplorando questa zona, perché devo cercare di farmi tante esperienze, Visto che devo rifare a livello 20 per sblocare la sella per il pterosauro, sì, per il pterodactilo, sì, pterosauro, pterodactilo, quello che è, Controlliamo se c'è ancora il velociraptor cattivo, allora, uno è uscito, oh, sono usciti tutti e due, no, non è vero, potrebbe esserci qualche velociraptor lì nascosto, Però mi sono detto, facciamo una cosa, visto che siamo come su Minecraft, cerchiamo di piazzare dei blocchi sopra il castello, E di attraversarlo in questo modo, perché lì sopra potrebbe esserci qualcosa, quindi ci andiamo e vediamo se troviamo qualcosa di interessante, E così possiamo fregare i velociraptor, ah ah, i dinosauri non sono così intelligenti, io arrivo, io provengo da Minecraft, ho imparato tecniche segrete, Oh cacchio, lì c'è qualcosa? Non ci credo, hanno messo una femmina orso porare lì, no, a sorvegliare forse qualcosa di interessante, ma non ci credo, Vabbè, vediamo un po' se riusciamo in qualche modo a evitarlo, guarda qui, oh mio dio, è gigantesco, come facciamo? Allora, se lì c'è un'altra entrata, vuol dire che sopra potrebbe esserci qualcosa di interessante, vediamo, oh mio dio, sto per cadere, Ok, perfetto, andiamo ancora più su del castello, forse il tesoro lo troveremo proprio in alto in alto, sì, Lì c'è qualcosa, avete visto? Non ci credo, forse abbiamo trovato il tesoro, ok, vai vai vai, però aspetta, aspetta, potrebbe esserci qualcun altro a sorvegliarlo, Ci sono così tanti mostri, guardate lì, orsi polari potentissimi, eh, ci avviciniamo con calma, con calma, oh mio dio, c'è una cesta, sì, Ok, sembra che non ci sia niente, avete visto? Ho evitato tutti i mostri, tutti i dinosauri cattivi, sono arrivato direttamente al tesoro, Ha, 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 vedete cosa serve a giocare a Minecraft? Sì, abbiamo trovato una spada, sembra ancestrale, tanto, tanto vecchia, Abbiamo trovato tantissimi proietti del pompa, guardate, di ghiaccio, di fuoco, wow, abbiamo trovato il tesoro, Possiamo scappare via, sì, scappiamo, scappiamo, ma vabbè, è proprio questo quello che volevo trovare, sì, ecco la mia spada potentissima, Guarda qua, abbiamo trovato una spada ancestrale fantastica, questa è una spada potentissima, secondo me, ma vabbè, non vedo l'ora di utilizzarla, Guardate, avete visto? Fa 185 di danno, è potentissima questa, è una spada ancestrale fatta di ossa, Proviamo ad utilizzare questa spada ancestrale contro tipo Paki, questo Paki qui maschio è potente perché a livello, Oh mio Dio, l'abbiamo shottato, ma la spada che abbiamo trovato shotta tutti, veramente, vediamo questo dodo, Oh mio Dio, l'abbiamo shottato, anche lui è sparito, vediamo questo qua, oh mio Dio, ma che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato una spada leggendaria, non ci credo, guarda qua, oh, chi è questo? Oh mio Dio, era un diloposauro che abbiamo shottato, oh mio Dio, quello lì è potentissimo, guarda, guarda, Potremmo assistere a una mega battaglia, sarcosauro contro una specie di super coccodrillo, Forse il super coccodrillo è il coso, è il sarcosauro, mio Dio l'ha shottato, sì, il sarcosauro è un coccodrillo potentissimo, Che figata, lì è cascato un tesoro, però ho paura di andarlo a prendere, perché ho paura di morire, Visto che quello lì shotta proprio tutti. Nel prossimo episodio con la spada ancestrale raggiungiamo il livello 20, prendiamo un pterodactilo e vogliamo via da questa valle, E cerchiamo di trovare una nuova valle fantastica, e in quella valle costruiremo una fantastica base, Sì, non vedo l'ora di fare una bella base futuristica con tante trappole. Ditemi nei commenti se vi sta piacendo questo gioco e vorreste altri video, e ci vediamo a un prossimo video, ciao ciao!